Ed eccoci al ripassone fase 3. La fase 3, riprendiamo dalla vita, si apre nel 1825 la nuova fase della vita di Leopardi perché finalmente trova lavoro. L'editore Stella di Milano gli commissiona un'edizione di Cicerone e Petrarca, quindi tanto lavoro. E quindi lui è felice, vive infatti per tre anni fuori da Recanati, Milano, Bologna, Firenze e Pisa, ma l'aggravarsi delle sue condizioni di salute lo portano a interrompere il lavoro e deve tornare a Recanati. E' per questo che le poesie scritte tra il 28 e il 30, i grandi idilli, vengono anche chiamati ciclo pisano-recanatese, pisano, cioè di Pisa, Recanatese, perché scritti tra Pisa e Recanati. Bene, Leopardi torna alla poesia. Dopo abbiamo visto l'interruzione, durata per parecchio tempo, almeno sei anni, insomma quattro anni, via, delle operette morali che lui continuerà a scrivere fino al 32. Il grosso però è degli anni, 1824-25. Avevamo visto che le operette morali sono in prosa. Lui era stato talmente deluso da Roma, dalla vita, dalla natura, che aveva smesso di scrivere poesia e era passato a una prosa molto tagliente, molto moderna. Ecco, quando ricomincio a scrivere la poesia, i grandi idilli, noi vediamo, vedete al centro la colonna, quella della poetica, che questi testi sono caratteristicamente divisi tra bello e vero, cioè sono bipartiti, divisi in due. Infatti, torna l'idillio, cioè queste poesie propongono descrizioni di quadri naturali, del natio borgo selvaggio, cioè di Recanati, dell'ambiente rurale di Recanati, della natura nella sua bellezza, oppure anche una natura, nel canto notturno di un pastore rurale dell'Asia, sono i deserti, le steppe dell'Asia ad essere descritte nel notturno lunare, ma a questa descrizione poi si affianca una parte di riflessione filosofica, dove si svela l'inganno della natura. La bellezza, che viene comunque proposta, è un inganno, un inganno della natura che fa credere all'uomo di poter essere felice, promette all'uomo la felicità e la bellezza e poi gliela nega nei fatti. Questo inganno della natura è funzionale, alla natura, dice Leopardi nello Zibaldone, perché la natura, se non ingannasse gli esseri viventi con la speranza di essere felici, di raggiungere il piacere, di raggiungere cose belle e buone, non otterrebbe lo scopo di farli sopravvivere, quel tanto che basta a riprodursi e a tenere in vita il ciclo naturale, quindi è un ennesimo inganno di questo meccanismo cieco della natura. Quindi, vedete, abbiamo sia il bello che il vero, sia anche dal punto di vista linguistico, poetico, sia la poesia dell'indefinito, quello che dava il piacere, l'abbiamo già visto nelle prime lezioni, sia nella parte del vero, della riflessione, un cambiamento di tono e di linguaggio che diventa vicino alla prosa, tagliente, retorico, teso, come quello delle operette morali, quasi in poetico. Bene, i testi maggiori, dedicherò delle lezioni ad analizzarli uno per uno, anche brevemente, ma insomma, sono a Silvia. Silvia, la fanciulla amata, forse la figlia del cocchiere, amata delle leopardi nel Maggio Doroso, è proprio questa parabola, no? Lei canta e tesse, preparando il corredo e dunque preparandosi a un futuro che lei immagina, pieno di gioie ed amore. Anche Leopardi, che ascolta quel canto, sogna e spera e pensa che la vita e la felicità arriverà. E poi cos'è successo? Che prima che arrivasse l'inverno, Silvia è morta di malattia. E anche Leopardi non ha mai avuto quella felicità che ha sognato e che si è illuso di avere così a portata di mano. Ed ecco che Silvia dunque non è solo una fanciulla morta, ma il simbolo della speranza che nel momento giovanile riempie di gioie e di attese gli esseri umani e che poi, se si vive abbastanza per diventare adulti, viene amaramente delusa. L'unica cosa certa nel futuro è quella tomba che Silvia indica di lontano. Oppure il sabato del villaggio, dove vediamo un villaggio, ricanati, che si prepara alla festa e tutti sono pieni di attese e di speranze. Ma domani, dice il poeta nella parte riflessiva, il giorno della festa sarà breve e ben presto subentrerà la noia, cioè di nuovo l'insoddisfazione, la delusione, il senso di vuoto. Perché è bella soltanto l'attesa della festa, non la festa in sé. Di nuovo torniamo a un tema che abbiamo già visto nella teoria del piacere. L'immaginazione è molto meglio della realtà. La quiete dopo la tempesta, invece. Piacere figlio d'affanno, questo potrebbe essere il sottotitolo. È il borgo che si risveglia e torna alla vita dopo una tempesta che li ha atterriti. Ecco, in quel momento la vita sembra sorridere, ma è solo l'effetto della tregua che la natura ha dato, della passata paura della tempesta. Quindi il piacere non è un vero piacere, è soltanto figlio dell'affanno, cioè frutto di una breve tregua al dolore continuo che la natura sparge a larga mano. Nella quiete dopo la tempesta la parte riflessiva è molto evidente. Il poeta si rivolge direttamente alla natura e dice Oh, cara natura, sono questi diletti che tu spargi per i mortali? Tu spargi in realtà a larga mano le pene, il dolore spontaneo sorge e il piacere non è altro che un breve intermezzo di tregua. Il canto notturno di un pasore errante nell'Asia è quasi un poemetto, è lunghissimo e ritorna e mette in discussione la presunta felicità dei selvaggi. Ricordate che già dalla sera del D di festa avevamo detto che insomma quel pessimismo storico che contrapponeva l'uomo selvaggio più felice all'uomo moderno dominato dal senso di vuoto, di insoddisfazione, dalla noia che rovina ogni cosa e che ci allontana dalla natura, era già stato un pochino forse messo in discussione perché già saffo la poetessa primitiva oppure insomma ecco nella sera di festa il bambino che Leopardi ricorda che era lui stesso e che già si sentiva stringere il cuore quando finiva la sera festiva, ecco già dicono che forse anche il primitivo, anche il bambino sentono il vuoto e sentono questa inutilità della bellezza perché sanno che sarà di breve durata e si chiedono il senso. Ecco nel canto notturno di un pasore errante dell'Asia tutto questo è molto evidente. Leopardi rimane comunque dell'idea che i primitivi siano più felici degli uomini moderni, anche perché, e questo è un testo dello Zibaldone di quegli anni l'uomo primitivo è talmente occupato a sopravvivere che non ha tempo di chiedersi il senso del suo sforzo di sopravvivere. Cioè l'uomo primitivo è contento se ha ucciso un animale che gli permetterà di mangiare di sopravvivere fino a domani. Non si chiede il senso della sopravvivenza o della vita o se sia giusto valga la pena darsi tanto da fare per sopravvivere perché è tutto preso dalla necessità. Invece l'uomo moderno che è civilizzato e non deve lottare per trovare del cibo per esempio si rovina la festa pur con la pancia piena a chiedersi continuamente che senso abbia la vita. Ma nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia è il pastore stesso che riposando col suo gregge si rivolge alla luna e si chiede proprio questo che senso abbia l'eterno andare della luna che è sempre uguale a se stesso e che non si stanca mai e che senso abbia l'andare del pastore che similmente sembra essere ripetitivo ed eterno ma che di fatto è così breve e così illimitato. Il pastore si chiede che senso abbia la realtà che senso abbia tanta bellezza che pure lo affascina quella della natura e spiega alla luna che la vita dell'uomo è altro che dolore fatica finché alla fine tutto finisce e si cade in un baratro e non si capisce perché che senso abbia avuto soffrire lottare fino a quel momento per poi trasformarsi in nulla. I genitori si prendono subito a consolare i neonati che piangono appena giunti alla vita consolarli dell'essere nati e che senso ha tutta questa fatica che senso ha tutto questo dolore che senso ha essere al mondo ma la luna non risponde ed ecco questo è uno dei canti più più famosi no in cui è un primitivo a chiedersi le stesse cose che si chiede l'uomo moderno che si chiede leopardi e gli dice qualcosa di più in questo testo dice che forse il greggio delle pecore è più fortunato del pastore perché il greggio delle pecore non si chiede il senso della vita vedete che quel non chiedersi il senso è passato dall'uomo primitivo al greggio ormai nel testo che stiamo analizzando. Forse il greggio non sa che deve morire e quindi non si chiede il senso di questo andare verso il nulla ma conclude il testo forse in qualunque condizione che sia un covile o una culla umana forse a tutti è funesto il di natale a chi nacque cioè per tutti forse questo vivere affannarsi e sapere di dover morire è una un tormento e dunque siamo nei testi più pessimistici dove rimane il linguaggio della bellezza il fascino della natura ma poi si svela che questo fascino è un inganno e la verità è questo stato mortale questo andare faticoso doloroso verso il nulla senza un consenso. Arriviamo agli anni 30 a Firenze praticamente Leopardi accetta una colletta di soldi di amici che per orgoglio prima non aveva accettato e di nuovo lascia recanati per non tornarvi più. Vive per un po' a Firenze alla fine anche la famiglia gli concederà una pensioncina per permettergli di vivere gli ultimi anni di vita come desidera. A Firenze si innamora per l'ultima volta conosce Fanni Targioni Tozzetti e si lega ad amicizia sincera e fraterna con Ranieri. Ne nascono un breve ciclo di poesie detto ciclo di Aspasia dove Aspasia la donna ricorderete l'amante di Pericle è il nome che Leopardi dà a Fanni Targioni Tozzetti che sarà un amore ovviamente ancora una volta infelice. Infatti ritorna con eroico slancio la voglia di vivere, di amare, di rischiare di nuovo di essere feriti per l'ultima volta e anche il tema dell'infinita vanità del tutto. Infatti nel testo a se stesso che è il più famoso Leopardi dice al proprio cuore di fermarsi per sempre perché nulla vale le emozioni ai moti del suo cuore è tutto infinitamente sciocco e vano tutto è destinato a finire il mondo è fango dice in quel testo. Sono poesie che ritornano nelle tematiche del vero la vita è un inganno la bellezza è un'illusione tutto è fango e non c'è senso e nulla vale l'illusione del nostro cuore ma nello stesso tempo hanno una novità rispetto ai grandi dilli perché hanno abbandonato il linguaggio poetico quello dell'indefinito. Il linguaggio del ciclo di Aspasia è molto più vicino alle parti riflessive filosofiche dei grandi dilli il linguaggio del vero diciamo ecco quello più vicino alla prosa. Sono più brevi hanno un linguaggio estremamente efficace e preciso un ritmo martellante secco un linguaggio aspro non più musicale non più suggestivo preciso affilato come un rasoio. Nel 1833 si sposta a Napoli a vivere gli ultimi anni in casa di Ranieri e nel 1837 a Napoli morirà. L'anno prima pubblica l'ultima sua opera La Ginestra è un poemetto dove per come ci dice il critico Binni supera il pessimismo che ha caratterizzato la fase 2, 3 e anche la parte della delusione del ciclo di Aspasia supera questo pessimismo e propone qualcosa di positivo. La Ginestra è un simbolo infatti questo testo parte descrivendo il vero volto della natura stavolta attenzione non è un idillio è la natura nel suo vero volto e il vero volto della natura è il Vesuvio cioè le lande bruciate le distese nere della lava e della cenere la vita le rovine di Pompei là dove la vita c'era la vita la natura ha seminato la morte con un lievo emoto e questo è il suo vero volto quindi abbiamo superato l'idillio dopodiché Leopardi dice quanto è sciocco il suo secolo quanto è sciocco l'uomo e il pensiero positivista del suo secolo che invece per rassicurare per avere il consenso delle persone per dire alle persone quello che vogliono lasciarsi dire qui attacca ovviamente nel suo secolo sciocco una certa propaganda positivista e anche i suoi colleghi intellettuali che propongono una visione positiva provvidenziale o cattolica o positivista del mondo insomma ingannano gli altri esseri umani raccontando che noi siamo destinati a magnifici progressi le magnifiche sorti e progressive dell'essere umano ecco la parte distruttiva diciamo destruence parts destruence della ginestra è contro questo secolo superbo e sciocco che continua a credere a proclamare che l'uomo sia destinato a dominare il mondo che le sorti dell'uomo siano il successo il progresso e la felicità se venisse a vedere il vero volto della natura e come anche grandi imperi come quello romano sono stati spazzati via dal lieve moto dovrebbe rendersi conto di quanto è sciocca questa fiducia sciocca anche la fiducia cattolica e gli dice nella ginestra perché se si guardasse con occhio lucido e con la ragione sveglia al vero volto della natura non si potrebbe certo credere che esiste una provvidenza che vuole il bene dell'uomo e che ha creato il mondo per farlo felice insomma passiamo alla parts costruence perché questi temi li abbiamo già visti nelle operette morali insomma no ecco nella parte costruttiva quella in cui si supera dunque il pessimismo leopardi dice che partendo da una accettazione a ciglio asciutto senza piagnucolarci addosso lucida razionale della verità cioè della bassa fragile condizione umana dell'assenza di un dio di una provvidenza di un destino di successi dall'assenza di senso veramente del nostro stare al mondo l'uomo accettando questa verità può costruire qualcosa cosa come dare senso alla sua vita intanto riacquistando la dignità cioè accettando la realtà senza fuggire senza raccontarsi balle frotto le consolatorie come la religione come il pensiero positivista accettare la realtà e sostenerla senza fuggire senza negarla senza inventarsi delle pose assurde di super uomini e poi costruendo una social catena lo vedete nello schema cos'è la social catena è un patto un patto tra tutti gli esseri umani contro la vera namica che è la natura dice leopardi se noi fossimo veramente ci rendessimo conto di essere assaliti da un nemico circondati da un nemico qual è la cosa più razionale da fare continuare a farci guerra tra di noi o allearci contro questo nemico tanto più forte che ci assalta da ogni parte ecco la solidarietà degli uomini la smettere di essere di incolpare l'altro uomo della propria infelicità smetterla di incolpare l'altro uomo dei propri insuccessi o vedere negli altri un ostacolo un nemico smetterla di farci guerra tra uomini ma creare una sociale catena una solida rietrata tra gli uomini per alleviarci l'un l'altro la sofferenza per farci coraggio nel sopportare il dolore per ribellarci o aiutarci a tener duro contro gli assalti della natura questo potrebbe essere un nuovo obiettivo per dare un senso e una dignità al nostro stato umano cheppure è così fragile cheppure è così transitorio cheppure è veramente un nulla nell'universo bene noi possiamo dare un senso che ci che scegliamo noi stessi alla nostra vita che è quello di essere forti e alleviare le sofferenze degli altri essere l'un l'altro una sociale catena questo è il superamento del pessimismo questo è il testamento di questo poeta e la ginestra è l'ultimo simbolo meraviglioso di questo poeta con cui lui chiude apre e chiude questo testo e che è veramente l'ultima immagine poetica di leopardi la ginestra non è simbolo di superbia perché gli alberi col tronco duro sono superbi e la lava o la natura nelle sue tempeste spezza i tronchi duri la ginestra invece così come un uomo che è consapevole del proprio stato che guarda in faccia la verità usando la ragione la ginestra si piega la ginestra sa di essere fragile si piega alle ai colpi della natura ma si rialza sempre risorge sempre popola i deserti e col suo profumo consola quei deserti stessi un'ultima cosa e nella sotto il titolo leopardi aggiunge anche un versetto di san giovanni attenzione gli uomini preferirono le tenebre alla luce egli non lo dice perché è diventato religioso ma lo dice con quel senso ironico che sempre lo ha sostenuto nel guardare in faccia la verità dura dello stato umano cioè ironicamente dice che gli uomini sanno qual è la luce e la ragione ma per paura per non accettare quello che la ragione gli diceva sul loro stato hanno preferito le tenebre voltando le spalle al vero e rifugiandosi in tante favole consolatorie ecco l'uomo non deve essere vigliacco l'uomo deve essere forte accettare la realtà e da quell'accettazione di realtà come la ginestra risorgere sempre tenace e solidale e con questo finiamo il nostro ripassone